Musica Benvenuti a questa nuova edizione di Licata News che apriamo con la cronaca. Prosegue l'operazione dei carabinieri della compagnia di Licata nella repressione del fenomeno della vendita abusiva di prodotti ortofrutticoli. Nella giornata di ieri sequestrati 400 kg di uva ed elevate numerose sanzioni amministrative. Il servizio è di Dania Bona. Prosegue incessante il lavoro dei carabinieri della compagnia di Licata agli ordini del capitano Marco Currao volto alla repressione del fenomeno della vendita abusiva di prodotti ortofrutticoli, svolto per lo più nel centro della città. A distanza di una settimana dall'ingente quantitativo di frutta sequestrata, i militari sono tornati nelle vie del centro. Numerosi controlli e venditori ambulanti posizionati nel centralissimo Corso Umberto, Rettifilo Garibaldi e Corso Roma. Elevate numerose sanzioni amministrative ed effettuati ingenti sequestri di frutta. Nell'ambito di un servizio finalizzato alla verifica delle norme prescrizioni in materia di commercio di prodotti ortofrutticoli. In particolare sono stati contravvenzionati quattro venditori abusivi di frutta, elevando complessivamente sei sanzioni amministrative per un importo di circa 4.000 euro. In questo contesto sono stati sequestrati circa 400 kg di uva Italia e Cardinale, il tutto venduto abusivamente, in totale assenza delle autorizzazioni previste, per la commercializzazione e vendita di prodotti alimentari, in tutti i casi di dubbia provenienza. L'uva sequestrata, alla luce della non tracciabilità della provenienza e della palese non conformità con le norme in vigore in materia igienico-sanitaria, quest'ultima dovuta ad una visibile presenza di pesticidi, verrà distrutta mezzo smaltimento rifiuti. I controlli continueranno in tutte le aree della città delicata da parte dei carabinieri, al fine di esercitare una risolutiva azione di contrasto al commercio abusivo di frutta. Un gruppo di migranti, ospiti nel centro di accoglienza di Lampedusa, si è tuffato ieri in mare nel porto dell'isola, con lo scopo di riuscire a salire a bordo della motonave San Sovino diretta a Porto Empedocle. Sono stati gli stessi migranti a spiegare i motivi del gesto, avrebbero voluto raggiungere Agrigento, così come altri connazionali che erano nel frattempo stati trasferiti sulla terraferma. I migranti sono stati tratti in salvo grazie all'intervento via mare di una squadra dei Vigili del Fuoco e della Capitaneria, distanza sull'isola. Oltre 200 tra appartamenti e terreni confiscati alla mafia sono stati consegnati per essere destinati ai primi all'emergenza abitativa, i secondi a finalità sociali, agli amministratori di 24 comuni delle province di Siracusa, Catania, Messina, Ragusa, Agrigento, Caltanissetta ed Enna, dalla direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Mafia, il prefetto Umberto Postiglione. Cambiamo argomento, torniamo all'Icata. In materia di abusivismo edilizio si è costituita una nuova associazione denominata Periscopio. Vediamo. La diffida della Procura della Repubblica di Agrigento al Comune per iniziare a demolire gli immobili abusivi presenti sul territorio ha già suscitato diverse prese di posizione da parte dei proprietari dei manufatti da abbattere. Dopo la firma del protocollo d'intesa tra Procura e Palazzo di Città, si registra la Costituzione dell'Associazione Politico-Culturale Periscopio, osservatorio permanente sul rispetto della legalità della città di Licata. L'associazione, si legge in un documento, si propone in particolare di monitorare il territorio licatese, segnalando alle autorità preposte qualsiasi forma di abuso e violazione della norma di legge, proponendone la soluzione. Presidente illegale per il triennio 2015-2018 è stato eletto Mirko Alfonso Cardella. Tra i componenti del Consiglio Direttivo è stato eletto Carmelo Sirone, già Presidente del Comitato per la Tutela della Casa. Il primo dei temi che sarà affrontato dall'associazione, già dalla prossima settimana, è il problema riguardante la demolizione degli immobili abusivi per come disposto dal Comune di Licata. L'associazione, prosegue da nota, comunicherà il suo orientamento per fermare la demolizione degli immobili abusivi e proporrà le soluzioni idonee per porre fine allo stato di dramma sociale che sistematicamente viene vissuto dai cittadini licatesi. Riteniamo che la procedura avviata dal Comune presenta numerose criticità che possono essere contestate nelle opportune sedi per fermare le demolizioni degli immobili abusivi. Invitiamo pertanto, si conclude la nota, i proprietari degli immobili abusivi a tralasciare iniziative parolaie e di facciata, percorrendo invece percorsi legali fattibili e realizzabili nel rispetto della legalità. A Siculiana i carabinieri della locale stazione hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Agrigento per porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere un 46enne di Cinisi. L'uomo la notte scorsa è stato fermato in Via Roma alla guida della propria autovettura e a seguito di una perquisizione è stato trovato in possesso di uno zaino contenente un coltello a scatto di 18 centimetri, una lampada tascabile, un passamontagna di tessuto nero, un piede di porco in metallo, un tagliabulloni e altri utensili utilizzabili per un eventuale reato contro il patrimonio. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro. E sulla vicenda dell'abusivismo insorge il cometato per la difesa della casa che oggi chiede addirittura le dimissioni del sindaco Angelo Cambiano. Ormai è deciso anche a Licata case abusive buttate giù dalle ruspe che presto faranno il loro ingresso anche in città dove è stata già resa pubblica la lista delle 11 costruzioni da abbattere. La notizia ha scatenato la furia dei proprietari delle strutture interessate degli abbattimenti che si sono costituiti in un comitato per la difesa della casa e che nei giorni scorsi ha incontrato il sindaco Angelo Cambiano. Ma oggi i componenti del comitato insorgono contro il primo cittadino e lo invitano a rassegnare le dimissioni. Il comitato in un comunicato stampa diffuso oggi sottolinea il comportamento incoerente del primo cittadino che all'indomani dell'incontro avuto col comitato assicurandoci scrivono che avrebbe fatto di tutto per tutelare il patrimonio immobiliare e abusivo per recuperarlo alla legalità dando ad ogni costruzione dove fosse possibile la dichiarazione di pubblica utilità. All'indomani si è recato in procura a firmare un protocollo definito dallo stesso comitato capestro per i cittadini. In questo protocollo, si legge nel comunicato, Cambiano si impegnava in nome per conto della procura anticipando nelle spese a demolire le costruzioni abusive e accusa il sindaco di essere stati presi in giro. L'amministrazione Balsamo si continua a leggere nel comunicato. A suo tempo aveva portato in consiglio comunale una delibera con la quale le case venivano dichiarate di pubblica utilità anche con la vendita. Secondo il comitato, oggi il sindaco Cambiano ha dato seguito ad un ordine della procura senza nemmeno documentarsi. La legge gli dava 30 giorni per farlo. Tale scelta, scrive il comitato, porterà la perdita di un patrimonio immobiliare del valore di 30 milioni di euro, costo che dovranno sopportare i cittadini per abbattere le case. Il comitato chiede a gran voce le dimissioni del sindaco Angelo Cambiano in quanto scrivono ha tradito la fiducia di circa 9.000 alicatesi che lo hanno votato su un programma di continuità e che lui non sta portando avanti e non rappresenta. Il comitato invita altresì il consiglio comunale a dichiarare di pubblica utilità le costruzioni abusive che oggi sono perfettamente integrate nel tessuto urbano e nel territorio. Finalità pubblica che può essere la vendita, l'utilizzo di case di prima accoglienza, in caso di calamità naturale, protezione civile, sede di associazione e quant'altro. Secondo il comitato per la difesa della casa non è giusto oggi abbattere un grande patrimonio immobiliare di grande valore addossandone il costo a tutti i cittadini licatesi e dalle generazioni future. E' intenzione del comitato far valere i propri diritti nelle sedi competenti opportune. Scade alle 13 del prossimo 30 ottobre il termine per far pervenire le proposte e le osservazioni per una possibile rimodulazione dei contenuti del piano triennale di prevenzione e corruzione. Il piano era stato approvato dal commissario straordinario della provincia nei mesi scorsi e le sue eventuali modifiche devono essere formalizzate entro il 31 gennaio 2016. Il libero consorzio comunale di Agrigento invita quindi le associazioni e i cittadini interessati a presentare le proprie proposte per migliorare l'impianto normativo di prevenzione del fenomeno della corruzione. Sul sito dell'ente www.provincio.agrigento.it nella sezione primo piano della home page è possibile visionare la documentazione e scaricare la modulistica. Ieri sera alla Camera dei Deputati è stata respinta la proposta di legge sull'abolizione del finanziamento pubblico all'editoria o meglio un emendamento interamente soppressivo del primo articolo del DDL quello appunto sullo stop al finanziamento. A parlare è il deputato nazionale del Partito Democratico Antonino Moscat che già in commissione si era espresso negativamente sul taglio totale proposto dal Movimento 5 Stelle. Respingere la proposta è quello che auspicavo non pensavo ai grandi colossi editoriali mi premeva salvaguardare piuttosto le piccole cooperative home made di giornalisti e le tv locali recentemente penalizzati sotto tanti aspetti. Questa è la chiosa finale del deputato del PD Tonino Moscat. 343 mila euro spesi in quattro mesi del precedente anno didattico per servizi di integrazione scolastica. L'entità della spesa è stata resa nota ai nostri microfoni dall'assessore ai servizi sociali Daniele Vecchio, il servizio. L'amministrazione in queste due settimane ha lavorato capofitto su questi servizi perché dalla documentazione è emersa una situazione un po' particolare e dispendiosa per l'ente perché nella scorsa annualità a fronte di 626 mila euro che erano stati stanziati dal distretto sociosanitario Licata e Palma per tre annualità di servizi che dovevano essere resi in continuità in appena quattro mesi di servizio lo scorso anno scolastico sono state impiegate 343 mila euro 871. 343 mila 871 euro spesi in appena quattro mesi nel passato anno scolastico per servizi di integrazione previsti dalla legge 104 e rivolti a minori diversamente abili affetti da deficit sensoriali rilevanti. La somma stanziata per l'intero triennio a sentire l'assessore vecchio ai nostri microfoni era superiore ai 600 mila euro e pertanto calcolatrice alla mano più della metà del capitolo sarebbe stato speso in quattro mesi dello scorso anno scolastico. Al problema dopo lunghe riunioni si è avviato con il buonsenso e la disponibilità delle cooperative sociali che hanno consentito un significativo abbattimento dei costi di gestione. Prendendo atto di questa situazione abbiamo dovuto rimodulare necessariamente i patti di accreditamento con le cooperative trovando un punto di incontro con le stesse e rimodulando le tabelle orarie che erano state già approvate con lo scorso patto di accreditamento. Quindi se passate a 22 euro orarie per quanto riguarda l'assistenza, autonomia e comunicazione è circa 18 euro. Devo dire che questo è stato un ottimo risultato per l'amministrazione perché riesce a garantire per tutto l'anno scolastico dei servizi che risultano essere essenziali a delle categorie di soggetti che devono coprire questo gap all'interno dell'apprendimento. Ma rimangono i dubbi sul perché e soprattutto come siano stati spesi 343.871 euro in soli 4 mesi dell'anno scolastico scorso. Il geometra Salvatore Pavone responsabile logistica dell'ufficio comunale di protezione civile ha donato un completo per interventi alluvionali e soccorso in mare alla Guardia Costiera Ausiliaria di Ricata che anni fa ha formato nove volontari con specializzazione tecnico-soccorritore fluviale alluvionale unico gruppo presente a livello provinciale e regionale. Si tratta di un capotecnico del valore di 600 euro che garantirà un intervento sicuro e professionale in vari ambienti al verificarsi di un'emergenza visto che ad oggi l'associazione è sprovvista di tali attrezzature causa mancanza fondi. Ci fermiamo per il break pubblicitario tra poco. Diventa anche tu chef per un giorno show cooking con Madalina Pometescu direttamente da Bake Off Italia di Real Time primo contest domenica 18 ottobre 2015 dalle ore 17.30 centro commerciale Il Porto la tua guida nel mare degli acquisti. Questo programma è offerto da Oliveri Gomme pneumatici di tutte le marche e misure a prezzi bassissimi ci trovi a Licata in contrada a Saffarello sulla strada statale 115 e in corso Umberto 133 Oliveri Gomme con noi la tua guida è più sicura Indaco solo per momenti importanti a Licata Frantoio Saffarello dal produttore al consumatore Mangia sano Frantoio Saffarello a Licata Domani a Licata cieli molto nuvolosi o coperti per l'intera giornata sono previste deboli piogge durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 25 gradi la minima di 20 gradi i venti saranno al mattino moderati e proverranno da est al pomeriggio moderati e proverranno da ovest nord-ovest mare mosso umidità oscillante tra i 72 e l'86% questo programma vi è stato presentato è stato pubblicato l'avviso per l'assegnazione di borse lavoro a soggetti esposti a rischio di marginalità sociale 36 le borse lavoro che verranno assegnate di cui 24 a Licata e 12 a Palma di Montechiaro ce ne parla in questo servizio Dania Bona si concretizza il progetto avviato dal distretto sociosanitario D5 che prevede l'assegnazione di borse di lavoro a soggetti esposti a rischio di marginalità sociale ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche fisiche o sociali al mantenimento proprio dei propri figli sono 36 le borse di lavoro che verranno assegnate di cui 24 a Licata e 12 a Palma di Montechiaro il Comune ha pubblicato l'avviso per l'individuazione degli utenti beneficiari del progetto di borsa lavoro destinatari dell'intervento come si evince dall'avviso sono tutte le fasce deboli della popolazione del distretto D5 persone esposte a rischio di marginalità sociale ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche fisiche o sociali al mantenimento proprio dei propri figli per l'ammissione alla selezione i destinatari dell'intervento devono essere in possesso dei seguenti requisiti residenza anagrafica presso il comune di Licata e Palma di Montechiaro ma requisito fondamentale deve essere l'ISEE del nucleo familiare che non deve superare i 7.000 euro i soggetti selezionati saranno inseriti in enti privati operanti presso ciascun comune del distretto D5 e saranno assegnate 36 borse di lavoro 24 a Licata 12 a Palma di Montechiaro la graduatoria sarà visionabile entro il 30 ottobre online sui siti istituzionali all'albopretorio ai destinatari delle borse lavoro sarà riconosciuta quale compenso la somma mensile lorda di 478 euro ciascuna borsa di lavoro per ciascun anno e per ciascun nucleo familiare beneficiario alla durata di 6 mesi la domanda di partecipazione alla selezione deve essere presentata entro e non oltre il 23 ottobre presso l'ufficio protocollo di uno dei comuni del distretto di 5 sono stati nominati i sette componenti della conferenza provinciale di organizzazione della rete scolastica 2015-2016 si tratta di Domenico Guelli sindaco di Santa Elisabetta Pietro Baglio sindaco di Montallegro Calogero Cremona sindaco di Naro Alfonso Frisco sindaco di Alessantile della Rocca Vincenzo Giambrone sindaco di Cammarata Vincenzo Lotà sindaco di Menfi e Fabrizio Di Paola sindaco di Sciacca l'elezione è avvenuta a seguito della riunione dei sindaci della provincia confocata dal commissario straordinario dell'ente Marcello Maisano nella sede centrale del libero consorzio comunale di Agrigento presenti in seconda convocazione 25 sindaci o propri delegati sui 43 della provincia con la lettura ai rappresentanti dei 42 paesi partecipanti del messaggio scritto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal presidente della Repubblica del Ghana John Dramani Mahama si è aperto il convegno inaugurale ieri pomeriggio a Palermo nella sala gialla di Palazzo dei Normanni della quarta edizione di Blue Sea Land Expo dei distretti agroalimentari del Mediterraneo Africa e Medio Oriente è stato avviato l'iter per l'attivazione del servizio di refezione scolastica all'icata per l'anno didattico 2015-2016 vediamo è stato avviato l'iter per l'attivazione del servizio di refezione scolastica nelle scuole materne di pertinenza comunale per l'anno didattico 2015-2016 la comunicazione arriva direttamente dal sito istituzionale del comune per mezzo di una determina dirigenziale del dipartimento affari generali pubblicata all'albopretorio online il primo passo è stato la nomina del responsabile unico del procedimento individuato nel dottor Vincenzo Curella già responsabile dell'ufficio comunale di pubblica istruzione di piazza Matteotti la nomina del RUP è il primo passaggio adesso dovranno infatti essere predisposti gli atti per il bando di gara il capitolato d'appalto e il documento unico di valutazione rischi e interferenze non è ancora possibile fissare una scadenza certa per l'avvio del servizio anche perché andranno fatti i conti per capire l'entità della somma a disposizione per coprire la refezione scolastica fino a fine anno poi con l'inizio del 2016 verrà predisposta un'altra gara per l'assegnazione definitiva del servizio fino al termine dell'anno didattico l'anno passato come si ricorderà la refezione scolastica partì il 20 novembre coprendo l'ultima decada del mese e tutto dicembre a febbraio venne poi espletata un'altra gara per l'affidamento del servizio per la restante parte dell'anno scolastico scenario che con ogni probabilità verrà replicato anche quest'anno il dato certo ad oggi è che l'iter buroclatico per l'inizio della mensa è partito con la nomina del responsabile unico del procedimento sabato arriva la madonna dei miracoli di Mussomeli a Licata verrà ospitata nella chiesa del Carmine in quella di San Domenico la processione invece che sabato si terrà domenica sera era la nostra ultima notizia grazie per la cortesia attenzione arrivederci a tutti ragazzi